All'inizio ho detto proprio che, vi ricordo, anzi, fate adesso la domanda. Cosa abbiamo mangiato ieri sera? Qual è stato l'ultimo film che avete visto? Qual è l'ultimo libro che avete letto? E allora, ma la memoria, che cosa riesce a fare? Quando poi non riusciamo a ricordare e allora diciamo, vabbè, ma tanto segniamoci le cose, le scriviamo sul telefonino, le scriviamo su un block notice, e intanto non le alleniamo quasi mai. Allora, lei fa questi esercizi di memoria, buongiorno. Buongiorno, no, li farò. Non li ha mai fatti? Pochissimo. Lei come si chiama? Rosanna. Vedi, è facile, se lo ricorda. Allora, è semplicissimo. Allora, diamo il buongiorno al professor Pietro Barbanti, neurologo dell'Università di Lirx San Raffaele di Roma, e Rosanna, che è qui con noi, Giovanni Scapagnini, professore ordinario di nutrizione clinica dell'Università degli Studi del Molise. Intanto uno dice, ma perché, che cosa c'entra poi la nutrizione con la memoria? Questa è la prima cosa. C'entra? C'entra come? Il cervello, come tutto il nostro corpo, è fatto di ciò che mangiamo, e quello che mangiamo impatta moltissimo sulle funzioni cognitive, quindi anche sulla memoria. Fare una dieta alla memoria è un po' un'esagerazione, ma ci sono cibi che ci aiutano molto a far vivere bene il cervello e quindi a mantenerlo giovane e a migliorare anche la parte cognitiva mnemonica. E allora, professor Barbanti, come alleniamo la memoria? E se si può allenare? Lei prima ci ha detto che lo si può fare. Lo si può fare, beh, intanto cercando di cambiare costantemente l'assetto. Possiamo far leggere alla signora una serie di colori? Vediamo un po'. Ti vede? Vado. Allora, prego, se si può alzare, ti metti, ti metti qua. Ok, da qui. Allora, questo lo può fare chiunque sia a casa. Questo è chiamato test di strupa. Cosa succede? Sono scritte alcuni colori, ma sono scritti con colori differenti. Cosa deve fare la signora? La signora non deve leggere quello che c'è scritto, ma deve velocemente dire di che colore è. Proviamo? Proviamo. Bada. Blu, bianco, viola, rosso, verde, giallo, rosso, arancino. Ah, nero, nero. E guarda, mi ha ingannato. La signora è stata molto brava, perché è veramente difficile. Alleniamoci in questo. E questo consente al nostro cervello di saltare di palo in frasca, che è la prima cosa per poter essere sempre sul pezzo, come si usa a dire. La corteccia frontale, che è importante così come la corteccia della memoria, per renderci sempre belli, aderenti alla realtà. Ma una curiosità, ma questo noi lo dovremmo fare, ad esempio, quasi tutti i giorni? Possiamo allungare anche il numero dei colori, ovviamente. e farlo guardando piano piano la nostra velocità, qual è, e contando i nostri errori. Ecco, e nel caso, intanto, continuiamo a vederlo, perché provate a farlo anche voi a casa. Adesso la signora ha sbagliato, diciamo, ne ha fatto due errori quasi. È normalissimo. È normale. Ci dobbiamo, il campanello d'allarme suona quando? No, allora, il campanello d'allarme suona quando il soggetto nella vita incomincia a fare meno cose perché la memoria non lo segue. Ma lì è già troppo tardi. E allora, diceva il professor Scappagnini, c'è una dieta per la memoria, intanto c'è la dieta contro la memoria, che è l'alcol. L'alcol è uno dei più potenti elementi aggressivi nel cervello e i nostri ragazzi, che stanno con il bicchiere in mano troppo spesso, si mettano una mano in testa, ancora prima che sul cuore, e finché sono ragazzi, controllino queste assunzioni. Dicevamo, tenere attenta la capacità di cambiare setting. Poi c'è un'altra cosa che si può fare con le mani, mi posso avvicinare? Prego, prego, prego. Allora, questo serve un po' per ingannare il nostro cervello che vorrebbe mantenere lo stesso ritmo. Allora, quello che può fare chi ci sta vedendo in questo momento, con un proprio amico, parente, o comunque persona vicino a sé, è fare questo. Io batto le mani una volta e lei le batterà due volte. Proviamo. Ma se io le batto due volte, lei le batte una volta a sola. Ok? Ora proviamo a farlo in velocità. La signora è fallibile. No, siamo bravi, perché l'ho fatto anch'io. Brava, brava, brava. Rosanna, ecco, e questo che cosa, anche a casa adesso, che cosa determina? Questo consente di vedere se il soggetto tende a perseverare, cioè a mantenere lo stesso ritmo, cosa che non è buona. Il nostro cervello deve essere in grado di saltare rapidamente, come una persona che scenda con gli sci lungo un terreno accidentato, cambiare l'assetto. E poi si può fare una valutazione della memoria molto semplice. Adesso le dico tre nomi, li tenga a mente. I nomi sono casa, pane e gatto. Li ripeta? Casa, pane e gatto. Adesso immagini la parola carne, scritta in grande. Mi dica le lettere che compongono la parola carne, partendo dall'ultima lettera e tornando indietro. E, N, R, A, C. Lo dica ancora? E, N, R, A, C. E le tre parole che l'ho detto? Casa, pane e gatto. Vabbè, ma lei è bravissima però. No, no, non ci... Io già mi ero perso. Senza Gobbo poi, tra l'altro. Complimenti. E anche unità dice. E questo va bene, abbiamo preso il top. Però questo dimostra anche come la signora è ben concentrata, perché avere una memoria bisogna... è una costellazione astrale favorevole fatta di memoria, attenzione, interesse e assenza di distrazione. E l'ansia è un potentissimo elemento distraente. Quanti giovani vengono da noi dicendo non ricordo nulla e sono pieni di ansia fino al cervello e nei ritagli di tempo hanno in mano lo smartphone. È vero. Allora, professor Scafagnini, torno da lei per tre cose. La prima è, abbiamo detto, l'alimentazione, quindi qual è la corretta alimentazione, di che cosa ci dovremmo nutrire. La seconda cosa, quella che stavamo parlando, dell'alcol, quindi l'attenzione all'alcol e anche questa vicinanza all'alcol con i giovani. Si diceva qualche anno fa, fino ai 18 anni, poi ultimamente degli articoli dicevano oltre 21 anni, mi raccomando, e poi sempre bere con moderazione e consapevolezza. E poi la terza cosa, l'esercizio fisico, se è fondamentale. Io ho fatto queste domande per capire se lei ha memoria. Se se ne ricordo, tutte e tre adesso. No, no, partiamo dalla prima, che è anche la più facile. Essendo professore di nutrizione, mi viene proprio facile facile. Gli alimenti che ci possono aiutare a far vivere bene il cervello sono moltissimi. Fra un attimo dirò la seconda dell'alcol, però ricordiamoci che noi pensiamo sempre che per esempio lo zucchero sia molto importante per il cervello. Era uno slogan. Ecco, nella realtà una dieta molto ricca di zuccheri, sia gli zuccheri semplici ma anche di amidi, non è molto utile, soprattutto nell'andamento degli anni, a far funzionare bene il cervello. Invece ci sono sostanze che veramente servono a far sì che il nostro cervello mantenga le sue funzioni nel tempo. Tra le più importanti ci sono gli acidi grassi polinsaturi. È un nome complesso, diciamo quelli più interessanti li conosciamo con il nome di Omega 3 e sono presenti sia nella frutta secca, ma moltissimo nel pesce. I noci, ok. Il pesce è uno degli alimenti più interessanti per il nostro cervello perché contiene proteine molto giuste e grassi che servono proprio alla struttura del nostro cervello. Gli Omega 3 costituiscono il grasso più presente all'interno del nostro cervello e non siamo in grado di farli, sono grassi essenziali, quindi li dobbiamo assumere con l'alimentazione. Frutta secca o pesce? Ecco, ma quando parlo anche di pesce però, che tipo? Va bene anche il pesce, diciamo, quello povero? L'ideale sarebbe il cosiddetto salmone selvatico, introvabile e carissimo, un'alternativa straordinaria, a volte anche migliore, il piccolo pesce azzurro del Mediterraneo. Ah, buono, ok. Che costa poco, è molto poco inquinato rispetto ai pesci grandi ed è ricchissimo in acidi grassi Omega 3. Secondo cibo fondamentale, i cosiddetti polifenoli che sono presenti all'interno dei frutti di bosco, un'alternativa molto più ghiotta, ma non bisogna abusare da un punto di vista poi delle calorie, il cacao. Questi composti si chiamano catechine o le antocianine, i flavanoli, sono nomi un po' complessi, ma sono piccole molecole che sono in grado realmente di allenare il nostro cervello. Quindi, ecco, diciamo un quadratino di cioccolato, preferiamolo fondente, e al giorno lo possiamo... Assolutamente fondente, l'ideale sarebbe avere un cioccolato molto ricco in queste sostanze, a volte vengono indicati quantitativi, e, diciamo, l'azione è antinfiammatoria, ma moltissimo, proprio a livello del cervello, migliori aspetti come il flusso sanguigno. Ecco, le antocianine hanno questo aspetto meraviglioso sul nostro cervello. L'ossigeno non migliorano aspetti legati alla funzione. Tantissimi studi hanno dimostrato un impatto, soprattutto durante l'invecchiamento. Ecco, professor Capagnini, però, l'altra parte fondamentale stavamo dicendo l'attività fisica, quindi gli esercizi. Noi li avevamo fatti anche proprio qui in studio qualche puntata fa. Sono tre elementi che fanno funzionare il nostro cervello. L'alimentazione è uno. Beh, l'altro sicuramente le relazioni sociali, la qualità delle relazioni sociali, ma spesso non siamo in grado, soprattutto ad una certa età, di sceglierci più mariti o amici, marito, moglie, amici, insomma, il coniuge è un qualcosa che impatta sulla nostra memoria e qualità del cervello. Ma l'attività fisica è una cosa su cui possiamo lavorare moltissimo. Che tipo di esercizi dobbiamo fare? E non esiste un'età entro la quale iniziare ad attivare. Cioè, anche con un'età molto avanzata possiamo dedicare del tempo agli esercizi fisici. Sappiamo adesso che 150 minuti alla settimana, superati i 60 anni, sono l'ideale di attività fisica da perseguire e deve essere un misto tra attività aerobica e di resistenza. L'attività aerobica lunghe camminate è la cosa migliore perché coordiniamo anche i movimenti. Come diciamo prima, l'attività è strapiramidale. Cioè, le funzioni di coordinamento sono importantissime per stimolare il nostro cervello. Allora, 150 minuti alla settimana sono 30 minuti al giorno di attività fisica. Che possono essere... 50% camminata lunga e poi possiamo fare dei piccolissimi esercizi molto semplici che vanno a stimolare aspetti del cervello che servono anche alla memoria. Nel senso che tengono il cervello giovane e stimolano la cosiddetta plasticità neuronale. Quali sono gli esercizi? Allora, facciamo due semplicissimi. Tutti e due mirati soprattutto a supportare anche il senso di equilibrio. Allora, il primo è semplicissimo. Posso... Sì, prego, prego, prego. Allora, piccola indicazione. Evitiamo incidenti a casa. Ecco, quindi vicino con qualcuno vicino, una sedia... Da fare lo scalzi o con delle scarpe da ginnastica molto comode. Allora, il primo consiste nel alzare una gamba. Una gamba, quindi così, ok. E spostarla un po' lateralmente e cercare di muovere anteriormente. Esatto, in senso ariario e poi in senso anziorario il piede. Questo esercizio è molto semplice. Lo possiamo continuare per un paio di minuti. Evidentemente senza stancarci nella posizione su una sola gamba. E se vogliamo complicarlo possiamo chiudere gli occhi che aumenta il senso di... Però dopo aver fatto un po' di allenamenti sennò poi... Grazie, grazie. Va bene. Grazie, professor Scappagnini. C'è anche ancora altri esercizi però il tempo a disposizione. Non lo abbiamo ma ci ritorneremo su questo. Grazie, professor Barbanti. Ringraziamo anche Rosanna. Dovrai tornare per fare questi esercizi. Allora, e comunque complimenti veramente per la memoria. E adesso...